Sono qui da giorni i volontari della scuola materna muratori di Concordia sulla Secchia, il comune dove in maniera forse più devastante si è abbattuto il terremoto di maggio. L'edificio, grazie a Dio, ha retto le scosse e tutti i bambini presenti sono stati messi in salvo, ma adesso il problema della ripresa si pone pressante, perché i danni si notano poco ma sono ingenti e per la riapertura tutto deve essere a posto. Mani sporche, ma in questi giorni c'è da lavorare tanto per partire 17, ce la farete? Guardi, la mia situazione qui personale, di ogni modo sì, ce la faremo, perché l'impresa ci ha garantito l'agibilità di tutto il piano terra, quindi stiamo lavorando a pieno ritmo con l'aiuto di tanti volontari, lei l'ha visto, e un'impresa del luogo che ci ha già servito molto seria, l'impresa Gemelli Costruzioni. Avete quantificato? Avete preso paura? Certo, sì. Finora ha quantificato il muratore, i lavori di murari, diciamo, e siamo sui 50 mila euro, pur essendo pochi i lavori. Poi c'è da pensare ancora che c'è il successivo, c'è la tinteggiatura, e impianti di espostare, impianti elettrici che ancora quelli non ce li hanno detto. E quindi ancora devono quantificarli, diciamo, in base ai lavori murari. Storica presenza sul territorio ha iniziato infatti la sua attività nel 1920. La scuola materna muratore era appena stata risistemata ed ampliata, proprio per essere all'altezza delle esigenze del piano educativo proposto. Il terremoto è stata dunque una vera mazzata per la dirigenza e i genitori che ancora oggi, in attesa della riapertura, vivono con apprensione il futuro. Ci staranno i 110 bambini? Allora, abbiamo tre grandi saloni che prima del terremoto utilizzavamo per finalità specifiche, sono grandi spazi. Oggi ne faremo tre sezioni per anni di età. Quindi in ogni sezione i bambini giocheranno, dormiranno e tutto. Quindi questo richiede un grande impegno da parte delle maestre. Da loro è venuta la proposta concordata con i genitori, riuniti in assemblea il 26 di luglio, perché erano molto preoccupati, non tanto dell'agibilità dichiarata della scuola, ma perché psicologicamente non si sentono ancora tranquilli neanche in casa loro. Riuscirete ad aprire il 17 settembre? Ce la mettiamo veramente tutta, 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 proprio perché noi vogliamo assolutamente aprire per dare il servizio ai bambini prima, per dare un senso di normalità ai genitori, perché hanno bisogno anche loro di riprendere la loro vita e l'attività lavorativa.